Giorni della merla come se fosse primavera, gelate tardive come quelle del 2017, grandinate, siccità e alluvioni. Il clima sempre più spesso fa le bizze, le attività dell'uomo più legate ad esso come l'agricoltura non possono certo far finta di nulla. Così gli operatori del settore da una parte provano ad attrezzarsi per affrontare le emergenze, magari grazie alla tecnologia, dall'altra fanno affidamento sulle assicurazioni contro le calamità. Per questo, saper stimare con la massima precisione i danni causati alle colture è un'attività che riscuote molto consenso fra i giovani negli ultimi tempi. Per questo, dopo il positivo riscontro della prima edizione con oltre 160 iscritti provenienti da tutto il nord-ovest, l'Agraria Gallini di Voghera ha deciso di aderire nuovamente all'iniziativa che raccoglie i principali istituti italiani, declinando le tematiche affrontate in base alle produzioni locali. A Voghera presto si parlerà dunque di danni causati dalle avversità ai prodotti principi del territorio pavese come l'uva e il riso. Quest'anno, sempre in collaborazione con l'Istituto Cerletti di Conigliano Veneto, ente scuola-istituto capofila, vedrà attivare presso il nostro istituto il corso di aggiornamento. Quindi possono accedere ovviamente quelli che hanno sostenuto la prima parte e procedere con questa sorta di formazione di apprendimento continuo. Sono due giornate pari a 16 ore, con la possibilità di implementare questo aggiornamento anche con una giornata, che non è ancora stata individuata, in campo. Quindi i prodotti di cui si parlerà sono il riso e il vino, due prodotti ovviamente d'eccellenza del nostro territorio. Grazie. Grazie.